Ce ne sentono tante, vie volanti, parchi acquatici, veramente un mercato delle pentole per quanto ci riguarda. Il porto Franco Nord fa parte ovviamente del porto internazionale Trieste, deve essere un volano economico per l'economia. E questa è l'idea di sviluppo del porto vecchio del candidato sindaco del Movimento 3V Ugo Rossi, che propone di realizzare in quel sito un hub per favorire insediamenti produttivi innovativi e lancia un'ipotesi. Parare di residenziale o commercio locale è inutile, visto che ci sono 14.000 edifici sfitti a Trieste, hanno chiuso 2.000 attività nell'ultimo anno, quindi ci sarebbe molto di più da fare. Io ho l'idea per contrastare lo strapotere delle multinazionali, piuttosto diamo la possibilità di far sviluppare ai giovani magari delle nuove imprese, start-up innovative, usando anche la zona defiscalizzata per portare dei servizi alla città. Tra i problemi più pressanti da risolvere in città, Rossi individua la riattivazione del tram di Opicina. Bisogna fare degli appalti blindati che diano garanzia e seretà. Per noi questo è importante, lo dico anche da ingegnere, quindi mi prenderei la responsabilità a costo di stare in cantiere 24 ore su 24, il tram di Opicina deve essere messo in funzione il prima possibile. Sulla piscina terapeutica il Movimento 3V aderisce all'idea dell'apposito comitato di costruirne una nuova Campo Marzio, ma ritiene anche che servirebbe ripristinare quella crollata. L'altra questione importante ovviamente è la piscina terapeutica, abbiamo parlato col comitato, abbiamo preso l'impegno, loro ne vogliono realizzare una nuova nel mercato ortofrutticolo, però noi siamo anche per ripristinare l'acqua marina esistente, anche perché già prima non bastava una per garantire un servizio alla cittadinanza, c'erano tanti disabili che comunque erano costretti ad andare a grado.